A causa dell'emergenza Covid salta, quest'anno, la celebrazione della memoria liturgica di Santa Rita d'Acascia, che cade venerdì 22 maggio e che a Cremona è tradizionalmente associata al rito di benedizione delle rose presso la retoria delle Sante Margherita e Pelagia, la chiesa di Via Trecchi più comunemente nota proprio come Chiesa di Santa Rita. Ad annunciarlo è il sito della diocesi, in questo periodo nessuna celebrazione nella piccola chiesa, visto che l'edificio non presenta spazi adeguati per garantire il necessario distanziamento come previsto dalle normative in vigore. Inoltre il grande afflusso di fedeli, specialmente anziani, diventerebbe motivo di assembramento e fonte di ulteriore rischio per tutti i presenti. Tuttavia non per questo la celebrazione della Santa passerà in secondo piano, per tutti i fedeli sarà possibile chiedere una benedizione particolare ai parroci delle proprie comunità. La benedizione delle rose ricorda un episodio della vita di Santa Rita, nel gennaio 1457, malata nella sua cella monastica di Cascia, la donna chiese che le fosse portata una rosa della sua terra. La tradizione afferma che Dio esaudì questo desiderio e si trovò una rosa, sbocciata in inverno, tra la neve. La Santa, dunque, potei godere delle bellezza di questo fiore a conforto della spina che l'associò per 15 anni alla passione redentiva di Gesù.